buongiorno a tutti buongiorno oggi andiamo a provare una cosa bellissima mi usa da cavia sono il suo topolino infatti guardate già la mia faccia una bella crema per viso made in cina quindi diventerò che voglio chiamandola e 100 per cento naturali ok si ottio mio ma la metti tu sì lo sapete che quella che avevo usato io l'altra volta c'era il pennello e qua userai le mani te non c'è dio stai lontano dagli occhi e togliamo la pellicola lui si diverte capito perché la mia non ci ha messo un quarto d'ora toglierla dopo che l'applicazione anche io ci ho messo un quarto d'ora per un'altra quindi allora andiamo a provare questa bella crema come bella nera fa vedere che devo coprirti la faccia rimarrò single ma ce l'hai già il fidanzato di là appunto mi muoverà ogni tanto scappa al balco non si sa come mai lui dice per la connessione ma chissà quale connessione passa che vengono bianche tutte queste lenticini è anche bravo dove c'è dove abbiamo messo la crema non ci sarà più niente neanche la pelle della serie di tornero bianca come prima la bronzatura andrà tutt'oporizzare puzza non volevo dirlo ce ne ho abbastanza per adesso mi sta mettendo i catrami infatti rimarrò per sempre anche il catrami è 100% naturale mettiamolo bene bene io non so se viene via però debbi volevo fare una battuta ma non posso dimmelo dai non si può dire il video se no ce lo bannano appunto per questo ma dopo abbiamo anche altre creme da provare altre nere e poi ce n'è una molto verde molto verde che diventa il Grinch non lo so ecco qua va bene secondo te? ma si dai aspettiamo aspettiamo dai raccontami qualcosa debbi cosa devi fare con questo con questa crema cioè io non lo so ma non lo so girerò per il mare se vuoi e dai vedete che con l'acqua del mare viene via non sembra che mancava un pezzetto quello del naso ecco il sopracciglione ecco qua mi vendicherò ve lo giuro grazie a tempo ci vede fammi leggere dieci minuti riusciamo a mandarlo super veloce il video dove abbiamo le vocine sopra che poi mezz'ora comunque non è naturale grazie non è naturale dicono 100% naturale ma adesso che vado a vedere sto morendo l'unica cosa naturale è l'acqua acido alcol alcol questo qua poi è questa xactam che cosa? non lo so è cinese non ne ho idea ho male all'orecchio dici che per la crema urea urea ma te il dito ti cadrà? questo qua potrebbe essere merda ah che è ci? ah c'è anche il gum? c'è il chabbing gum beh ce la vengo andata posso masticarlo posso masticarlo però devo dire che mi comunque dicono di carbone ma qua di carbone non c'è scritto niente non c'è scritto di carbone allora non è che dicono di carbone in questa parte qua? si maschera al carbone al carbone capito? no mi sembra ah ma forse non è questa quella ah grazie cosa mi hai messo in faccia adesso? non è idea face black mascara si chiama powerful antiossidante energia ma dai che ti dà un sacco di energia stasera dopo corri come una pazza vedremo mi vendicherò comunque mi dicono made in cina ma tu hai scritto tutto in arabo eh si ma in effetti guarda qua no ma è scritto anche in francese dai tranne in italiano perché in italiano sarebbe maschera fatta di merda ah mi vendicherò lo sai non è ancora asciutto Debbie ah lo so lo sento ti tira? no no la manderei veloce sta parte del video se ci riesci si che la mandiamo veloce se no cosa facciamo ci mettiamo mezz'ora quindi saremo lì che faremo e così? si ah ce lo facciamo adesso giochiamo a carte e allora intanto facciamo vedere le altre due che devi provare dai allora subito dopo questa qui visto che non sarai ancora bene nel frattempo che sto asciugando nel frattempo vi faccio vedere questa allora divento stragnocca con tutte ste maschere dopo cavolo dopo trovi il fidanzato perfetto ah dopo proviamo la bioacqua che quindi è biologica attiva al carbone sì sempre al 100% questo era quello del carbone che ricevi però qua non si sa cosa c'è scritto ah quindi neanche quanto ho dovuto tenerla in faccia? no niente ma è scaduta? no però potrebbe essere 15-20 minuti eh eh può essere 15-20 ma quindi noi ci mettiamo tutta una giornata con ste maschere fatte no la si ti uso il phon però spero a me inizia ad asciugarsi se vuoi attaccarti alle lampade forse fai prima allora questa qui allora c'è scritto ah questa si capisce allora questa io asciugo intanto allora in questa che proverà dopo non c'è scritto nulla non c'è scritto nulla non c'è scritto nulla ho ancora bagnato qua invece anche se hai scritto tutto in cinese c'è scritto 1 o 2 volte alla settimana e severe, blake, non ho idea di cosa vuol dire oppure una volta al weekend quindi una volta alla settimana forse se sei forse vorrà dire se hai la pelle molto marcia 1 o 2 volte alla settimana se invece hai la pelle da super gnocca 1 volte alla settimana questo lo dico e poi dopo visto che abbiamo tolto via tutti i punti neri tutte le macchie tutto tutto dopo mettiamo allora allora è vera allora è vera questa bellissima crema è scritto black sempre black sempre black ma è tutto verde nella scheda black wear maschera green però mid vabbè tutti e due in inglese facciano schifo abbiamo capito questo è 35 minuti dove 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 è pippe pippe allora poi non si asciuga anche questo è bellissimo 100% natural poi dietro c'è scritto che contiene etanolo morirò ragazzi morirò comunque si sta asciugando eh si si ah si un po' si ma quindi poi come si dovrebbe rimuovere in teoria il collasco è un peccino qua invece devo tirarla? si però ancora non sei pronta ok aspettiamo dobbiamo aspettare ma stacchiamo il video cosa facciamo se no diventa troppo lungo no lo mandi velocemente vieni veloce veloce fai cosa scema adesso mi vendicherò so già alla fine del video cosa dirò ok siamo tornati a noi quindi abbiamo aspettato un bel po' secondo me perché abbiamo fatto un altro video abbiamo fatto un altro video e come potrete vedere dopo se ci vediamo qua è asciutto qua no non viene via Debbie no? no intanto andarmi a lavare? si sento come asciutto non ho c'ho freddo mi sa che non ha funzionato vado a lavarmi io dove ci laviamo? qui? lì o di là? andiamo a lavarci dai e Deborah si sta lavando la faccia guarda è stato tutto faccio così eh adesso stiamo usando il microfono della videocamera e non abbiamo altri microfono come avevo come altre volte ha rossuto da sola quindi non ho potuto fare non viene via scusa l'aspetto Debbie ce l'ho per i piatti e dove va? non c'è? adesso lo prendiamo o se non viene via quello sgrassatore lo sgrassatore l'ho detto perché ti aiuta sempre non va molto bene per il viso ma è l'unico l'unico rimedio non è via no non è via ci sono la spugna si no no è via si ok allora con questa crema dovrete usare una spugna per i piatti e se lo svelto se no non viene via io non so se è molto igienico questo mi sento una padella la delio è diventata una padella di metallo ma l'acciaio in sta venendo via si piano piano viene via se vuoi usiamo anche la parte quella che gratta così diventa un vero esfoliante un esfoliante con i piatti ho ancora del nero si dove? in tutto il viso davvero? noi vogliamo vedere la pelle bella idratata e dopo è veramente veramente è veramente non fattelo prima di un appuntamento no potrebbero farlo prima di un appuntamento così sembrano tutte emozionate dopo perché si devono grassare quella spugna quella metallica è andato via tutto? si è andato via tutto un po' sotto il collo ce l'hai che non so come mai perfetta perfetta dobbiamo ricomprare una spugna alla zia dici o? se ne ho di là mi stanno altre due sapete noi siamo provvisorie qua noi siamo in vacanza quindi guardate il nostro set fotografico che spettacolo wow wow ve l'ho fatto vedere anche l'altro giorno e dovrò fare così per altre? eh no adesso altre tre volte? si altre tre volte ma non so se riusciamo perché non so se oh come si è diventata lucida hai visto? aspetta andiamo alla luce andiamo alla luce perché qua sparaflesciamo guardate che viso lucido dopo aver utilizzato dopo avervi grattato con lo svelto secondo me è il posto di mettervi la crema nera tanto vale che vi lavate con lo svelto e usate la spugna gratta gratta per i piatti a posto allora si sta tornando a sedere eccoci qua è tutta bagnata l'abbiamo ripresa mentre si lavava e adesso è diventata anche un po' di sabbia non si aggiunge un po' la maglietta no è tutta bagnata è tutta bagnata miss bagnata bagnata miss bagnata bagnata ho bagnato anche il tavolo non succede niente allora questa crema qui dai consigliacela a tutti perché sai è buonissima per chi vuole lavarsi con una spugna lo svelto compratela no non funziona mi sa però no credo ce ne siano altre è bello che non veniva più via io me ne ero già accorta ma infatti dalle dita non veniva più via quindi se vi piace prendetela se no io non la compro no dai compro la debbi così usi sempre lo svelto per lavarti chi mette per primo mi piace avrà questo e il regalo dai comunque ragazzi visto che mi dovrò vendicare almeno mille se arriviamo a mille mille sicuro non ti vendi cinquanta cinquanta mi piace se arriviamo a cinquanta mi piace perché mille sono troppi dopo non mi riesco a vendicare facciamo la ceretta a una parte del corpo di mio fratello no io sono poco peloso cioè dai mettete mi piace vi prego fatelo per me va bene dai mettete i like e un saluto ciao ciao